ragazzi buongiorno io mi sono appena alzato proprio non avevo voglia di fare niente però sento musica già in cuscina no vabbè ma che stai facendo ma già cusci di susi io non avevo voglia di fare nenti saluta va saluta chissà sono canzoni a questi mesi no vabbè ragazzi vabbè ragazzi a dopo fammi un caffè fammi un caffè mi sono appena alzato vabbè ragazzi a dopo iiihihi iiihihi